Ciao a tutti ragazzi, come al solito sono Franky e bentornati in questa nuovissima puntata di Frankplay La serie che vi mostra i gameplay ogni lunedì alle ore di tazziette E quindi eccoci qua, perché oggi è lunedì, oggi sono le ore 17, indovinate un po' C'è un gameplay, è una cosa particolare, eh Comunque abbiamo cambiato gioco, abbiamo cambiato gioco perché giustamente mi piace ogni tanto cambiare E' giusto portare sempre robe diverse Eccoci qua quindi con Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege è un gioco molto molto Six Siege, molto particolare, molto bello Devo dire a me piace parecchio perché è molto tattico E voi non ci crederete, ma in realtà quando mi ci metto so essere proprio molto molto tattico Poi certo, io non lo dico, non sarò mai ai livelli di due grandi giocatori professionisti Ovvero Miss e Mrs. Signorina Lioner Signorina Lioner ed Eric che sicuramente loro saranno in maniera questo video Anzi, parte proprio il placement qui Andate nel loro canale e iscrivetevi che proprio mi arrabbio se non vi iscrivetevi Comunque, io non sarò mai ai loro livelli quindi voi prendete sempre le mie partite come partite partitose, ecco Allora, ci sono queste due cose molto particolari Una cosa qui molto particolare, forse è un regalo del gioco che dice Guarda, sei talmente, fai talmente schifo Un pacchetto alfa Allora, aumenta le tue chance completando le partite, le vittorie garantiscono un roulette bottino Più chance hai, più probabilità ci sono di ottenere un pacchetto alfa Allora, fatemi capire, ma avete messo gli spacchettamenti selvaggi anche qua su Rainbow? Voglio capire questa cosa, no? Perché Eh, questi capellini, vada Sono fashion ogni tanto Allora, allora, oggi sono parecchio casato, eh Vediamo subito che cosa Devo aprirlo? Ma come, proprio, mazza che figo, bro Vedi che sarebbe veramente figo se facessero queste cose in edicola Voi immaginate i pacchetti, trovi un codice e poi te lo metti Sarebbe una idea Già sto dando le idee di marketing No, bellissimo Come quando eravate piccolini Cioè, eravate, perché io no Io non so, io sono nato grande, no? Sono nato direttamente 18, 19, 20 anni Eh, però sarebbe molto figo vedere queste cose così Boh, a me piace un sacco Eh Oh mio Dio È viola, se non è viola vuol dire proprio botta di culo In genere è come su Battlefield Che ce ne batte Clicca sulla scheda per scoprire Non so che cos'è Oddio, oddio Flavio si è emozionato Cos'è? Leader vuol dire Secondo me è proprio che sei fortissimo Io lo dico Comunque la skin è per l'MP7 Tra l'altro io vedo che ho l'operatore bloccato Quindi probabilmente ho fatto pure Cioè, è una cosa Ottieni i pacchetti Ma giusto per curiosità Ah, ma si usano i punti Ah, vabbè 50 pacchetti 200.000 Guarda, stanno bene là 25 Stanno bene là Io c'ho 14.000 Cioè, proprio Un pezzetto In me ce ne potrò comprare due Vabbè ragazzi Spacchettamenti selvaggi Magari un'altra volta Magari non qua Non su questo canale Ah, e poi c'ho questo 50% Di probabilità forse di trovarli Non lo so, sinceramente Dunque, dato che su questo gioco Campano parecchio con le skin Con queste cose qua E un po', secondo me Sblocca un nuovo operatore Scommetti che è per un operatore Che io non ho Infatti Era per Bandit Che io non ce l'ho Piazza di cavi Di alta tensione Raga 1.500 1.500 E io però me li stavo tenendo da parte Ne so sicuro Cioè, il mio del passato Stava facendo qualcosa Infatti Vedi, voleva arrivare a 25.000 Ma noi tanto abbiamo capito Che facciamo schifo Tutto ciò Non ci arriverò mai Quindi io mi compro Bandit Solo perché voglio avere Il nuovo Confermo Confermo Lo confermo Vediamo il filmato Quando ero nelle antiche polizie Ho lavorato sotto copertura Scusa Sono stato in carcere Ho dovuto smerciare droga Bravo Complimenti No, no Veramente Comunque sì Abbiamo sbloccato Bandit Grandissimo Comunque belli questi filmati Allora, adesso io mi ci impegno Voglio proprio portarmelo Ad alti livelli Questo personaggio Cioè, io proprio Lo voglio portare Armas Comunque fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate di questo Gioco Se volete vedere altri video Sul Rainbow Six Siege Insomma, sta a voi Sta a voi ragazzi Perché siete anche voi Magari a scegliere i giochi Del Frank Play Avete voi questa opportunità Quindi voi Avete un gioco in particolare Che volete vedere Volete vedere me Alle prese con un gioco particolare Indie Non indie Tripla Quadrupla Una Mezza B Qualsiasi lettera alfabeto Fatemelo sapere qua sotto Nei commenti Perché insomma Voglio Eh, apro lo spitz life Proprio, eh Qui in questo caso Bene, il caricamento Durerà circa 8.000 anni Quindi Oh, ecco Se sei degnato Io non è che posso sempre intrattenere Su tutti i caricamenti, eh Per favore Ma santo e Dio, eh Ma meno male che ci penso io Perché sono bravissimo Quindi posso Posso intrattenere Anche sui tempi morti Allora, questa è una partita Già cominciata A quanto pare Ma io sono nel team perdente Sicuramente Ok, sono nel team arancione Dove abbiamo Caveira Guardate Caveira Personaggio Personaggio importante nel gioco Per chi ci gioca Sicuramente lo sa E vediamo subito Che cosa fa Però Vedo che sta perdendo un po' tempo Cosa sta perdendo Cosa fa Secondo me Io se fossi Caveira Bravo, vedi Stavo per dire Utilizzo questo super potere magico Che lui praticamente va silenziosissimo Adesso se tu Dai, ma che mira di me Ma manco io Che schifo Ecco, sono nella squadra delle pippe Vedi Il gioco l'ha capito Ma rianimalò a questo punto Attenzione C'è un callo di framerate Qua ragazzi Mi ci dia Cosa sta succedendo Oh mio Dio Oh mio Dio Sbaglio E senza armi Scusatemi Io C'ho questo dubbio C'ho questo grosso dubbio Io Vabbè Vabbè ragazzi Guardate Io sono vicino pure il microfono Così voi mi sentite anche meglio Allora Quindi Perfetto Iniziamo Io non posso scegliere Quello che mi son comprato prima Ma allora siete veramente Delle persone brutte Allora io generalmente Devo dire Mi piace utilizzare Grav Grav Perché Voi dite grav Perché no Grav fumogena Ma manco se mi paga Ok allora Adesso vuoi vedere Tutta la mia professionalità A questo gioco Ve lo dico Sono molto professionale E adesso Ah a vedere Abbiamo termite Sledge Iban Buck E grazie Cioè me medesimo Innanzitutto c'è sempre la prima fase Ho già fatto qualche video su questo gioco Quindi qualcuno di voi Forse già conosce Già sa cosa succede in questo gioco Ma per chi non lo conoscesse È molto semplice Noi adesso dobbiamo andare Con i nostri Fatiche telecamerine Dobbiamo andare alla ricerca Il posto in cui ci sono i nostri Terribili Nemiti Ma sento dei rumori Qui Sì Sento dei rumori Infatti vedi C'avevo azzeccato l'animaccia vostra Ora rispetto Tutti i mortacci Tu No 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 Eh vabbè I mortacci Guarda Eh vabbè Eh vabbè Purtroppo Però 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 L'ho spottati Vedete adesso noi sappiamo loro chi sono Questa già è un passo in avanti Perché sapere le loro abilità Ci permette a noi di conoscere meglio il destino del mondo Allora Non capisco perché questi già sparano Cosa Nel frattempo qui ci sono queste radio dell'Afghanistan Che io francamente le avrei già rimosse Dalla vita Allora ci avviciniamo con molta cautela Eh Io seguo paradise In the ground Io ragazzi lo so che questo potrebbe essere un video per un colpo al cuore Per chiunque giochi bene A rainbow Però Dobbiamo mettere Questo c'è un elicottero qua Forse lo possiamo far cadere a terra Dico qualcosa di brutto vero Allora Dunque Secondo me c'ho la webcam troppo grossa Bofatemelo sapere Allora Attenzione Attenzione Ci muoviamo Silenziosi Non so se mi sentirete ogni tanto in silenzio Perché pensate Ma anche io mi devo concentrare Nel tanto Mentre gioco Eh lo so Allora sicuramente è successo qualcosa di brutto qua Per me i nemici sono proprio qua sotto eh C'ho questa impressione ragazzi che voi non avete idea Proviamo a usare il rampone Poi adesso cambiamo posizione Eccoci qua Eccoci qua Eccoci qui Eh Stanno le Cioè la finestra è proprio aperta Dico la finestra Significa proprio Non t'azzardare minimamente Ad affacciarti Perché se no Ti spariamo Ah ma quello Eh 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 Non è che hai fatto una bella mossa Ciccio Pastricchio Ciccio Pastricchio ha fatto una bellissima mossa Vediamo se da qua riesco A spottare qualcuno L'anima Non vedo manco l'anima Dell'immorta Partita tosta Partita Ecco qua Eh Questo sicuramente si è fatta a mozzare Perché è una pippa Amici Non si fa Non si fa No 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 Ecco qua E' finita E' finita Tra l'altro che dobbiamo fare in questa modalità Perché Bravo Bravo Eh L'ho addestrato io Ma come sei stato individuato Ma l'anima C'ha Dico la telecamera Guarda io vorrei riuscire fuori Prego resisti Guarda io poi mi perdo Ma santo Dio Voglio una mappa di sto posto Eh Glaz Glaz che Ma sai che vi dico Io adesso gli rascio dentro Tra gli due Ma statevi zitti va Ma non vi permettete Vaffan Mo salgo qua Gli uccido tutti Faccio una strage che Mamma mia Levatevi Terrorista attack proprio Io entro Ignorante Ma che Cristina Ho fatto una cazzata ragazzi Mi vergogno io di me stesso Come mai abbiamo perso Wow Proprio a me Non me lo dici Guarda Wow Proprio Ragazzi Voi dovete capire una cosa Ci sono partite in cui Gioco benissimo Su sto gioco e partite in cui Faccio veramente schifo Infatti No ma avete fregato Santo Dio Era l'unico No eh Allora vabbè E mo E mo che facciamo E mo ci mettiamo Cazzo Io non ho capito Se volete giocare bene Se volete fare gli problemi Andate bene in competitive Ma guarda tu questi Ma va a quel paese Ma guarda tu Che state giocando qui libera Eh Perché state giocando qui libera Gioate qui libera Perché non volete avere problemi Perché ci avete paura Di giocare in competitive Perché se giocare in competitive Poi voi dovete perdere Perché Tutti calcoli mentali Che ho fatto io Ci penso io adesso A far vincere la squadra Perché qua diciamo Le classe diligenza Quando bisogna giocare Su questo gioco E sto ci penso io Ah Stanno cercando di rompere da qua Non so quanto ci metteranno A romperla Ok Intanto non lo ho animato Ma Ma come abbiamo perso Ma è cazzo Vabbè Vabbè Gli abbiamo beccati tutti No c'è quello con lo scudo C'è caveno Eh Mo adesso sarà un bel problema Adesso poi mi ricordo Che qua c'è un punto In cui loro possono fare anche spawnkill Ma io gli entrerei Proprio di ignoranza micidiale Gli fiuzzerei Pure la Pure la faccia Praticamente E chi si è visto Si è visto Solo il problema è Da dove li potrei fiuzzare Da sopra no Però da qui al lato Ecco qua Adesso qua come minimo Ci hanno visti sicuro Guarda io vado da sopra No cosa ho fatto Oh mio ragazzi Qua occhio Ma senti questi Che parlano in arabo Ma perché Ma statevi zitti Allora intanto Devo fare una sorta di Di detersivo Allora Facciamo così Io metto questa qua Dai Ok E poi appena è sfondo l'altro Pronti eh Ok vedete è stato Un bel detersivo Hanno rotto quel vetrino Bravissimo Eh ma perché lo stavo carriando io Ragazzi Lo stavo portando io Roba là Tecnicamente qui è un po' Un fortino adesso eh Come è tutti individuati così Tutti e quattro stanno là Quindi cioè Dobbiamo aspettare Un attacco da là Stanno cerchendo di rompere Quella barriera No l'hanno rotta Sono lì Eh uno Uno com'è Com'è che vai a terra L'animaccia tua Oh no 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 Sono per rompere da là Ah ma visto Ci muoio Ci muoio tantissimo ragazzi Invece no C'è morto lui Bastardo Ciao Ciao a tutti Eh ma guarda un po' 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 Quanto so forte Tiè L'ho pure capito Cioè Niente ragazzi Con questa proprio Mi sono rifatto Tutta la reputazione Della partita Mamma mia Mamma mia Che colpo di classe Ragazzi Che colpo di classe Ci sarei morto Invece no L'ho affrontato L'ho sparato Con grande determinazione Mamma mia Grande vittoria Grande vittoria Ma come ultima Ragazzi Perché ero così forte Vabbè Però sono stato veramente forte Questo Raccolto Raccolto Ah l'ho già raccoglto Vabbè Presta che lei Presta che no Ragazzi Perché presta che Mi dispiace Io esco da questa partita Ragazzi Io vi lancio a voi La domanda Se volete vedere altri video Su Rainbow Sixage Fatemelo sapere Questa sotto Nei commenti E niente Mi è piaciuto molto Questo gioco Oh ma che abbiamo Un altro Doppio spacchettamento Oggi Oggi Doppio spacchettamento E allora apriamo Un altro Incredissimo Spacchettamento epico Via Facciamo partire La musichetta Di spacchettamenti epici Ragazzi Eccoci qua Ovviamente sarà una cagatina Però Scopriamo la ricompensa Scossa Vabbè dai Eppure un operatore Che utilizzo spesso Quindi Carina Carina Dai Vabbè Vabbè Comunque Fatemi sapere ragazzi Cosa ne pensate Di questi incredibili Pacchetti Ah adesso Ah vedi Mucci abbiamo il 2% Di ottenere Ah Più si gioca Più Ah che sistema incredibile Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Ci vediamo lunedì prossimo Per un altro episodio di Frankplay Quindi per un altro gameplay Alle ore 17 Ci vediamo questo mercoledì Alle ore 17 Con una nuova puntata di Frank News E venerdì dalle 16.30 Alle 17.30 Con una bellissima streaming Quindi A mercoledì Con un nuovo video Come sempre Dritto per dritto